Ciao ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video, è bellissimo rivedere le vostre facce sorridenti Indovinate un po', oggi impariamo a suonare The Heart of Dying de Gojira Proverò a spiegarvi nel migliore dei modi, nel più semplice dei modi, in che cosa consiste il pattern iniziale di questa canzone Che è la parte più difficile della canzone e tutto il resto scorre abbastanza bene se sappiamo suonare Questo pattern, The Heart of Dying, è molto discusso nella comunità batteristica È molto difficile da suonare, ci vuole del tempo ad apprenderlo Personalmente penso di aver speso almeno le prime due settimane solo per mettere giù il pattern e iniziare a farlo scorrere a una velocità abbastanza moderata Lo perdo molto facilmente se non lo ripasso Quindi è un pattern davvero difficile, è un pattern molto lungo, poliritmico Vi spiegherò come suddividere questa poliritmia per renderla più umana Grandi Gojira che l'hanno scritto, grande Mario Duplantier che io comunque porto sempre qui nel mio cuoricino Avvizzito, cercherò di spiegarvi la sostanza di questo pattern e come andare a memorizzarlo Poi tanto già so che molti chiederanno nei commenti il pdf con la trascrizione Io il pdf con la trascrizione non l'ho utilizzato e vi consiglierei di non utilizzarlo per imparare il pattern a memoria Però per la buona riuscita di questo video comunque l'ho preparato e lo potrete scaricare sul canale Telegram Bernardo Grillo, batteria ad alti ottani Quindi partiamo subito con il pattern e come andare a capirlo Dunque per capire questo pattern dobbiamo ascoltare molto attentamente la parte iniziale della canzone Dove ascoltiamo la parte tribale suonata sui cerchi dei tamburi, no? Dunque se andiamo a ascoltare le ripetizioni che vengono suonate Troviamo che sono tre volte quattro colpi E tre volte due colpi La volta dopo viene ripetuto di nuovo tre volte quattro colpi E poi vengono state due volte soltanto due colpi Detto così è molto semplice e con un po' di allenamento si può riuscire a suonare questo pattern iniziale con le mani Senza andare a pensare a complicarsi la vita troppo sulle poliritmie Comunque per chi di voi giustamente fosse interessato Direi che la prima parte è una poliritmia di cinque nel quattro Quella con i quattro colpi perché sono quattro sedicesimi più una pausa Quindi sono un gruppo di cinque E poi andiamo un tre nel quattro E di conseguenza si ripete questo schema Quindi la parte dove ci sono quattro colpi è in realtà una poliritmia di cinque nel quattro Comunque Quindi memorizziamo bene Tre volte quattro Tre volte due Tre volte quattro Due volte due Il pattern che poi andiamo a ascoltare quando partono invece le chitarre e la batteria È una traduzione batteristica di questo pattern Quindi i quattro colpi diventano tre colpi di cassa più un rullante in fondo Quindi invece di essere tacatata e tutututà Sempre una poliritmia di cinque nel quattro C'è sempre una pausa nel mezzo di un sedicesimo Ok? Quindi vengono staccati questi blocchi Tutututà 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 E invece la traduzione batteristica della parte di due Tre volte due vi ricordate Sono due colpi di cassa E nel mezzo c'è un rullante Quindi è E questo pattern viene continuato insistentemente Con il ride inizialmente che tiene i quarti Continuo sulla batteria per spiegare meglio Dunque il ride che tiene i quarti appunto Sarà sempre in una posizione diversa Ogni volta che cominciamo un nuovo giro E quindi sarà utile effettivamente magari scriverselo un attimo Oppure appunto leggere il pdf per capire dove casca il ride Può essere davvero di aiuto Quindi tutto il pattern suonato più lentamente Suona in questo modo 1, 2, 3, 4 Detto questo dobbiamo andare a valutare lo sticking da utilizzare La prima volta che ho suonato questo pattern Iniziavo ogni figura di cassa con il piede destro Poi è arrivato il famoso post di Mario Duplantier su Instagram Dove mostrava questo pattern ai suoi follower E ho notato che lui invece alterna lo sticking Ovvero parte una volta con il piede destro e una volta con il piede sinistro E da lì Pling Mi si è accesa la lampadina E effettivamente è più semplice suonarlo alternato E l'ho imparato poi di nuovo alternato Adesso semplicemente Quello che bisogna fare È di iniziare i nostri gruppi di 4 Una volta con il piede destro E una volta con il piede sinistro Andare sui nostri gruppi di 3 Che sono due casse o rullante Una volta con il piede destro E la seconda volta con il piede sinistro E continuare ad alternare il piede d'appoggio destro al sinistro costantemente Anche quando il giro riparte Ovvero che abbiamo concluso 3 volte 4 3 volte 2 Di nuovo 3 volte 4 E 2 volte 2 Il giro riparte Ma con il piede opposto Quindi avremo Praticamente un giro che parte di destra Un giro che parte di sinistra Un giro che parte di destra E un giro che parte di sinistra E poi alla fine Mario va a concludere Con una figura invece in 6 nel 4 Che suona Quindi capite bene che per studiare questo pattern Che è molto lungo Bisogna innanzitutto abituarsi alla melodia Perché poi quando lo mettiamo sul brano E ci sono le chitarre che fanno Se non avete la melodia in testa Vi perdete È naturale La seconda cosa È che dobbiamo assolutamente partire lentamente E non avere fretta Di mettere il pattern subito nella canzone È piuttosto veloce Suonata come la suonano loro nel disco In più incastrare tutti i colpi per bene Vi assicuro che non è affatto semplice È un pattern di altissimo livello Proviamoci a farlo tutto Alla sua velocità originale Vediamo che succede 1, 2, 3, 4 Il pattern di The Art of Dying Spero che questo video vi sia stato utile Iscrivetevi al mio canale Telegram Così potrete andare a scaricare la partitura Se poi sarete soddisfatti del risultato Beh potreste farvi un video e taggarmi su Instagram Sarei super felice di vedere Taggati sia me che Mario ovviamente Perché è il suo il pattern Amica mio Quindi ragazzi Che dire Buono studio Spero che questo video vi sia stato utile E spero che vi sia piaciuto Io mi chiamo Bernardo Grillo E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao